Gli anticorpi monoclonali trovano applicazione e sono diventati anche molto importanti nelle malattie dermatologiche come anche nelle malattie reumatologiche. Si parla di bimekizumab che è appunto un anticorpo monoclonale durante la eredizione 2024 del congresso europeo di dermatologia alle ADV e noi approfondiamo il tema soprattutto relativamente all'artrite psoriasica con il dottore Emanuele Trovato. Dottore qual è il meccanismo d'azione del bimekizumab in che patologie dermatologiche trova applicazione? L'inibizione duale dell'interlochina 17A e dell'interlochina 17F permette di avere grazie a bimekizumab un meccanismo innovativo ed efficace tanto nella gestione della psoriasi quanto nella gestione della sua più frequente comorbilità quindi parliamo di artrite psoriasica e indubbiamente è questo meccanismo innovativo con un'azione mirata tanto sull'immunità innata quanto sull'immunità acquisita ci permette di poter ottenere una remissione di malattia anche a lungo termine. Quali sono i nuovi dati presentati al congresso e a dv su questa molecola nell'artrite psoriasica? Sono stati in questi giorni pubblicati e presentati dati proprio sull'efficacia di bimekizumab nei pazienti con psoriasi di artrite psoriasica. È stato interessante notare quanto si sia alzata l'asticella considerando che gli end point degli studi presentati erano appunto il raggiungimento della CR50 che è un parametro sicuramente innovativo se consideriamo che tutti i diretti competitors utilizzavano la CR20 come end point primario di valutazione di efficacia della molecola. Inoltre per la prima volta bimekizumab ha anche puntato l'attenzione su una gestione completa del paziente andando a valutare anche la minimal disease activity quindi un indice composito sia della componente cutanea che della componente articolare e sicuramente molto più vicino alla realtà clinica rispetto a un parametro come il PASIO come la CR50. Questi nuovi dati quali prospettive aprono nella cura dell'artrite psoriasica. Sicuramente ad oggi possiamo pensare di poter ottenere una remissione profonda della malattia anche a livello articolare così come ad oggi siamo abituati ad avere a livello cutaneo e questa possibilità di agire su più fronti e di considerare effettivamente proprio l'impatto della molecola sulla vita del paziente ci permette di poter gestire al meglio la malattia. Grazie a tutti.